Ben ritrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Cesare Martignan. In A1 tra Aglio e Calenzano in direzione Firenze coda per incidente al chilometro 264. Traffico rallentato in entrambe le direzioni tra Incisa, Reggello e Firenze Sud. In Fipili in direzione Firenze tra La Strasigna e Scandici coda per traffico intenso. Nella diramazione Fipili Pisa in direzione Firenze tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est Traffico rallentato per lavori. Nel raccordo autostradale Siena-Firenze in entrambe le direzioni rallentamente all'altezza di Poggi-Bonsi. In direzione Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Donato e Tavarnelle e tra San Casciano e l'aracciamento A1 Firenze in Pluneta. Nel capologo Toscano in via Pian dei Giullari per interventi edili da l'1 di 27 luglio in poi in orario 9-18 sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via della Torre del Gallo via Righini. Muoversi in Toscano un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!